L'anno scorso daremo lo start, saremo in compagnia degli atleti, tra l'altro quello che abbiamo fatto l'anno scorso ci ha permesso ancora una volta di migliorare il percorso, di migliorare quelle piccole situazioni di logistica per rendere più agevoli agli atleti il percorso, un percorso che è poi straordinario, che ormai sta diventando un circuito. Questo è una cosa di cui noi dobbiamo fare molta attenzione perché avere un circuito per una mezza maratona, avere un circuito per quello che poi sarà la maratona è sicuramente un'offerta di sport data ai tanti runner della città di Napoli. Assolutamente, insomma c'è ormai una condivisione di un percorso, la mezza maratona, l'alfa maraton è diventato per noi un appuntamento straordinario, è come una festa e crediamo che lo sarà sempre di più perché lo leggiamo dai numeri, un progressivo aumento di atleti che partecipano a una gara ci fanno capire dell'attenzione importante che si sta dando a questa gara ma soprattutto anche in ottica internazionale. Quindi Napoli si candida ad essere una città di sport con una vocazione internazionale, di questo noi siamo contenti, lo facciamo attraverso degli organizzatori che sono davvero bravi, possiamo sempre migliorare, sicuramente ci sarà qualche cosa che poi sarà da aggiustare, però Napoli è pronta per manifestazioni come questa.